La solidarietà verso il popolo ucraino coinvolge anche i giovani. Il gruppo adolescenti dell'Oratorio di Pisogni, in collaborazione con l'Associazione Domani Zavtra, ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità a favore della popolazione, che in questo momento si trova in serie difficoltà nel contesto bellico in atto, un esempio di come l'Unione per il raggiungimento di un determinato obiettivo faccia la forza. Noi abbiamo iniziato con questa idea che abbiamo avuto appunto di raccogliere generi di prima necessità più o meno due settimane fa e ci siamo messi d'accordo tutti insieme che il giorno della raccolta, il giorno della distribuzione dei volantini, che è stato domenica scorsa, e speriamo che vada avanti. Il genitore di uno dei volontari che è qui con noi in oratorio si occupa personalmente di portarli in Ucraina e anche attualmente è in viaggio per consegnarli. Una ventina di ragazzi, tutti volontari che coadiuvati dagli educatori, le suore, ed il parroco di Pisogno e Don Lucio Cedri, provvedono la raccolta e lo smistamento del materiale donato. Il gruppo ha anche un messaggio che rivolge direttamente alle famiglie, incitandole al dono. Le famiglie possono appunto aiutarci, magari immedesimandosi in quelle persone che scappano appunto dalla guerra e ringraziamo tutti quelli che ci danno una mano e quelli che stanno dando una mano.